Dicevano che il mondo sarebbe finito nel 2036, ma si sbagliavano. Il mondo ormai è già finito da molto tempo. Umbrella, un'azienda tormentata dagli scandali che ora sta cercando di reinventarsi. La vecchia Umbrella ha commesso errori, ma ciò su cui stiamo lavorando oggi cambierà il mondo intero. Abbiamo un problema. Il farmaco contiene un derivato del virus T. Il virus T genera i mostri. Miliardi di persone moriranno. Tenete tutti la bocca chiusa. Fanculo. Non opponete resistenza. Il matrimonio è complicato. Miliardi di persone Grazie a tutti.